Un saluto a tutti e benvenuti sul mio canale. Con questo video continuiamo il gioco riservato agli iscritti del Club della Scommessa. Ma prima di andare avanti diamo un'occhiata ai risultati del gioco della settimana scorsa per vedere chi tra i partecipanti al gioco si è giudicato il fantastico gadget che il Club della Scommessa ha messo in paio. Vi ricordo che le partite della settimana scorsa erano Atalanta-Milan finito 5-0 dunque 1, Lecce-Bologna finito 2-3 dunque 2, Parma-Brescia finito 1-1 dunque x e infine Sassuola-Napoli finito 1-2 dunque 2. La sequenza vincente è 1-2 x-2. Ma adesso andiamo nei messaggi più recenti per vedere chi tra i partecipanti ha postato per primo il proprio pronostico. Questo è il primo partecipante, vi ricordo la sequenza vincente è 1-2 x-2. Dunque iniziamo con il primo 1, 1-2 niente. 1-2 x-2 ecco qua il secondo vincitore del Club della Scommessa se lo ha giudicato Giacomo Boriani. Naturalmente Giacomo Boriani può contattarmi su whatsapp al numero che vedete su preimpresso e per darmi i suoi dati personali per poter ricevere a casa il premio che si è giudicato, il premio del Club della Scommessa. Ma adesso andiamo avanti e continuiamo con il gioco successivo e mi raccomando postate il vostro pronostico per partecipare gratuitamente a questo gioco. Dunque continuiamo il video della prossima puntata e buon divertimento. Un saluto a tutti e benvenuti dalla puntata numero del gioco del Club della Scommessa Con questo video potete partecipare gratuitamente al gioco. Come? Semplice! Adesso elencherò 5 partite del campionato italiano di Serie A di questo fine settimana. Queste sono le partite che ho selezionato. Adesso per partecipare al gioco con un commento sotto questo video dovrai pronosticare con un segno 1x2 il risultato di queste 5 partite. Rispettando la sequenza dalla prima alla quinta partita scrivendo il tuo pronostico in questo modo risultato prima partita spazio risultato seconda partita spazio e così via alle altre partite rimanenti Il primo partecipante che indovinerà il risultato delle partite vincerà il simpatico gadget che il Club della Scommessa ha messo in palio Si tratta di un portachiavi multifunzione con torcia e gettone che puoi inserire nel carrello della spesa naturalmente con su impresso il logo del Club della Scommessa dunque iscriviti al mio canale se non l'hai ancora fatto metti un mi piace al video e condividilo con gli amici ma la cosa più importante con un commento formula il tuo pronostico e compiti con gli altri iscritti al canale per vincere il premio offerto dal Club della Scommessa Dunque vi auguro un buon divertimento e ci vediamo al prossimo video Ciao